Noi abbiamo tentato di convincere gli amici dei 5 Stelle a non fare l'errore, l'errore di fare una scelta di campo. L'accordo che era stato fatto con i 5 Stelle aveva la base di fare quello che vuole la gente, quello che vuole il popolo. Se i 5 Stelle decidono di non stare più dalla parte dell'elite, è una scelta di campo pesante, non ci trova d'accordo, ma è stata fatta anche quella, ma è stata fatta più che altro una proposta di attenzione state sbagliando. Poi uno legittimamente fa una scelta di campo, se gli amici dei 5 Stelle preferiscono abbandonare la politica per il popolo e stare con l'elite e con le banche, scegliere di andare con la sinistra, perché mettersi con l'EU vuol dire andare decisamente a sinistra, quindi prendere una scelta di campo politica anche sull'arco costituzionale. Vuol dire scegliere, che ne so, lo Iussoli, scegliere i porti aperti. Ecco, è una scelta pesante. E poi anche mettersi col PD che fino a ieri è contrastato in ogni modo. Allora, poi entriamo...